signori e signori qui a buio pesto siamo a genova ed è uscita la patch una settimana fa di tomb rider remastered e vediamo un po vediamo un po cosa cosa dicono qua allora si accettiamo i cookies questi biscotti che ci fanno tanto bene siamo nel sito ufficiale tomb rider anzi tomb rider.com ciao raiders la pace per tomb rider è rimasta da luna al tre e includa a vedi perché qua dovete sapere che nella versione di big games c'era qualcosina in più e quella versione non era doveva andare live sul big game store ma era un development come si suol dire o come si vuol dire e qua hanno aggiunto delle texture in hd che mancavano poi hanno aggiunto texture per le scale e che non hanno più impatto nel movimento la telecamera forse hanno aggiornato il sistema di illuminazione in certe aree hanno risolto la sparizione di alcune texture che sparivano a seconda di come si posizionava la camera no? hanno reworkato infatti prima ho provato a registrare il livello della tomba di Tiohokan ma OBS esploso grazie OBS reworkato di capsize ok per essere più visibili gli oggetti ma andiamo a vedere un po' nel dettaglio tomba di 1 2 3 cos'hanno cambiato allora fix the images for space allora hanno aggiustato i quadri i dipinti che non saranno più croppati cioè tagliati un po' di strani dalla casa di Lara hanno risolto la parziale mancanza della porta nel livello d'egitto che non ci sono ancora arrivato ma ci arriveremo vedi updated texture non keep it custom ah next texture infatti c'è proprio la mano di Lara che va a prenderle updated lava texture not be transparent when viewed insert ah ok hanno aggiornato la texture della lava in modo che non siano trasparenti quando si vedono a certa angolazione nel duo invece hanno risolto un crash che ogni tanto succedeva nella casa di Lara poi hanno sistemato il box tanto per rimanere in tema di box dei ragni nel livello della grande muraglia bella grande muraglia ragazzi e poi ci arriveremo aggiornati i segreti perché vengono messi nel livello del golden mask deve essere credo dlc sì perché c'erano dlc già all'epoca ragazzi sì non si chiamavano dlc ma erano dei livelli in più bonus snow mobile no longer ah ok il gatto delle nevi non va più indietro quando spari quando spari con i controlli moderni no con i controlli tank aggiornati 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 le maniglie delle porte nel divingare con delle texture proprie cioè adeguate aggiornato il molten gold texture nel livello del rigno bo delle texture aggiornato il camuflage della neve anche di moda nel livello dell'acqua della fredda e questo tombraider nel terzo updated quicksense texture vabbè updated texture della sabbia le cascate non scompariranno più quando si cambierà il livello dal control loom al nevada desert più o meno la gemma ora visibile nella nel livello della fornaccia degli dei allora il livello segreto orhala osnautri ora tessi trigger è proprio lì quello skybox ok skybox dettagliati saranno ok allora c'è da dire fare una precisazione c'è gente che vorrebbe una parte 2 di questa remastered anch'io anche se devo finire i soliti titoli soprattutto perché all'epoca non giocai a tombraider angel of darkness io spero che riaggiornino anche i vari magari con delle patch minori i vari leggende anniversary e e cosa underworld e poi ragazzi il nuovo tombraider il nuovo tombraider è d'obbligo perché gli ultimi 3 si belli però hanno cambiato un po' troppo le carte in tavola ok svecchiare il personaggio quello che vuoi però non so ditemi un po' la vostra cosa ne pensate se vorreste vedere un nuovo tombraider anzi tombraider perché secondo me ce n'è bisogno secondo me ce n'è perché gli ultimi tombraider usciti dal 2013 in poi hanno anche di uncharted no? forse un po' troppo che dite eh? a tranciarti e vorrei iniziare il 2 perché forse è quello che mi è piaciuto di più il 2 signori buonanotte e buone botte buonanotte e buoni